Ci stai a parlare, Cufo? Mamma mia! Investigatore Qform So all'isola dei Carno Dove ci hanno i denti acuzzi Naga, pito, nel culo gli ce metto un dito Moli Allora, tu non vedrai mai il mio drago A meno che io non voglia Caro Alicas Sì, che sono perso Ah, figo Allora, gli ho detto una cosa Di dove siete, taledetti infami? Perché sanno E poi ci hanno i servizi loro Allora, per farvi capire una cosa Voi direte, perché ci inviterò Adesso si mangerà questa casetta di legno? Ma lo spiego subito Perché questi non sono semplici preghi Sono infami che stanno facendo Finta di essere nanupini Allora 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 Non mi risponde Non mi risponde Mi sta a fan caccià A poccio Non t'ha già da ribellate Te lo dico tu Oh Non corri Non corri La mia porta Open the door Naga Neverland Neverland Siete fatti Eh Ma facciamo Dicò in America Allora Open the door Perché sennò Cimitero ti apre il buco del culo Ti devi da fare il segno Naga Open the door No, please No, please Open the door Open Mi ha detto Stanis Io non aspetto un cazzo Adesso ti faccio fare la fine Del cazzo di tacchino arrotto Guarda Change the server Go to the info speed Immortalsi tua Yeah Avanti Che cosa Quanti siete Allora E mo' mi avete rotto Li coglioni Così infiltrati Nel 97 E ci aveva nessuno Nel 97 Oh Bravo Alec Apriamo la porta Digli Non lo so Loro stanno al cimitero Stiamo davanti Stiamo davanti L'isola di Carno 2472 E mo' mi avete rotto Li coglioni Bravo Alec C'è magnate tutto Così cazzo Dei infiltrati Dei merda Che cosa Avveni nel server No C'è rompe Li coglioni Svegli a mezzo La paluta Oh Mo' mi sento meglio E adesso Mi avete rotto Li coglioni Eppure Si ha zatterato De merda Mi manca Sono loro Si Sono i due Che stanno a romper Cazzo Da tutte le sere No E se Stiamo a cercare Con Savio Sessi scemi Necronomico Mo' mi sento meglio Ha magnato Ha fatto merenda Ho pizzicato Sputnik E mo' Tocca C'è tua Sta davanti Davanti a guarda Dog Ok Secondo Infiltrato Trovato Adesso si pensa Che è tutto Ok Invece Adesso arriva Qform Ti tira una razzata In culo E questo casottino Volerà in aria Ok Questo sta qua dentro Qform Io ti tirerei La prima razzata Qui in culo A lui Se no Aspetta un attimino Voglio fare un attimo Un tiro al piattello Un negro che corre BABBIO Vieni qui Plebeo Allora C'hai la merda Adò In modo Lo spieghiamo Perché non ti preoccupa Scrive Why Why Io Qform Inizierei Con una trambata Lì sopra Su questo casottino Un uomo nudo Oh cazzo Oh cazzo Vieni qua Schifoso Che cosa One Two Three Four Five Oh cazzo Pericolosissima Mi sta pure A scrivere Ok Che ho in modo di rialzare Però Ho sentito il cuore No Io ho sparato un culo Ho fatto A puntorina A caccia di spie Cimitero Cuforno Ne sta a scrivere Puro Allora Qua Adesso Entriamo Un attimino Gli facciamo Un attimo Capire Come funziona Dai Dilo Dilo Ok Squagliato Illusione Comandanti Liviros Porco Dove Vedi Vedi Black Fit Fear Vedi Oh oh Sai tu che sali Le scale Cufo Porco Cazzo Porco Dove Appena Scannamo Andato Seconde Ah Eccolo Stronzo Questo qua Mi preoccupate Più ancora Andato Comunque ragazzi Cimitero Qforma La coppia Che scoppia Alla Starkey Hanno Sventato Un altro Attentato Al server Aspetta Mentre Fai saltare Ecco E' andato Non deve rimanere Gli un cazzo Come se Non hanno mai Giocato Sto server E' a buttillar Centro Procchio Un cazzo Moco Forma Si' ammazzata Solo Rene Fuoco In culo Ecco qua Che Tecnico Tattica Missione Compiuta I secondi Li abbiamo pizzicati E ce l'abbiamo Fatta Di virus New kids Va bene ragazzi Io questo video Ve lo posso Anche chiudere qui Dove io e Qform Dobbiamo andare a scovare Qualche mini infiltrato Perché dovete sapere Che la gente Che prova Attraire nel server Fare basette di legno Di pietra In modo che non le raidiamo Se pensano loro E passare cose A grandi tribe Per romperci le chiappe Questo succede Da quando hanno messo I transfer Sta succedendo Addirittura Sono tornati anche Gli strikers A rompere i coglioni O quale pare Vi ricordate il video Dei strikers Dove siamo andati A invadere il server Ecco adesso Ci sarà una guerra Anche con loro E nei prossimi video Andremo a vedere Anche questo Intanto Stanno entrando Anche altri nemici Di altre tribe Nel server Che dovete sapere Che in tutto questo tempo Su Ark Ce ne siamo fatti Molti di nemici E adesso Stanno provando A rientrare Ma rispoghiamo Prima che provano A fare qualcosa Risolvino Perché un conto È entrare Con la base E dichiararsi Come tribe Non conto E fare le cose Di nascosto E a noi Fare le cose Di nascosto Non piace Tuark Quindi Li andiamo a prendere Li tagliamo La gola Quindi ragazzi Nei prossimi video Andremo a vedere Quello che succederà Quello che sta accadendo Nel 97 Ci stanno invalendo Ci stanno invalendo Molte tribe Le stiamo respingendo Ci stiamo organizzando Stiamo facendo Il panico Praticamente Ma lo andremo A vedere Nei prossimi video Questo è un mini video Ve lo chiudo qua Giusto per far capire Che da qui Non si passa Io spero Che il video Vi sia piaciuto Se così fosse Mettete un bel mi piace Lasciate un commento Qui sotto Iscriviti al canale Tu testina di cazzo Se ancora non l'hai fatto Per fare questo Devi stare fuori di testa Come noi Ma se sei arrivato A questo punto Del video Per dire Che tanto bene Non stai Quindi dagli La iscrizione Ma soprattutto Ragazzi Fatemi il piacere Di questi video Di condividerli Non ve ce vale niente Ci divertiamo insieme Ci facciamo due risate Ma fatemi il piacere Almeno Di condividere Questi video Ragazzi E non solo Di ARC Perché adesso Torneremo a fare Anche altri giochi Molto presto Quindi Cazzarola Condividete Anche quelli Di mortacci vostri Ragazzi Fatemi questo piacere Ragazzi Condividete Questi video Non penso Sia una fatica Così grande Testine Bella ragazzi Beccamo domani Ma troveremo Anche a te Sio Martin Molto presto